Siamo con Camillo Trada, il giovane Rampollo di casa di Il Nol, questa sera nominato forse ufficialmente direttore marketing o responsabile marketing del gruppo di Il Nol, ma quanto è difficile o quanto importante, quante responsabilità c'è in un incarico del genere oggi? Direi parecchie difficoltà ci sono perché come tutti ben sappiamo il marketing soprattutto in questi ultimi anni è cambiato parecchio, ci sono molti più canali, mezzi comunicativi, molti più parametri, molti più dati da analizzare, molti più feedback e prima non sapevo neanche cosa fossero, quindi sicuramente è un incarico prestigioso ma di assoluta responsabilità, quindi mi auguro di portarlo avanti con il massimo dei miei intenti, mi reputo una persona piuttosto determinata quindi cercherò di affrontarlo con tutte le mie forze assolutamente. Questa sera lei ha dato già parecchi dati, ha già fatto parecchie analisi e penso sia già un anno che ci lavora sopra su questi dati perché oggi bisogna essere preparati, avremo una prossima festa, dovremo sicuramente dare il massimo vero? Assolutamente, ritengo che nessuno si possa reputare esperto nel campo del marketing soprattutto nel 2019 perché qui un continuo aggiornamento, un continuo ha sempre migliorie, una ricerca comunque di informazioni per quanto riguarda sempre un continuo sprono anche, parlo in prima persona, per migliorarsi ed è giusto ed è bello così, quindi io mi sveglio il mattino con la voglia sempre di combattere nuove sfide e quindi sono anche... Beh, buoni i propositi giovanili. Sì, sì. Bene, ringraziamo Camilo Trada, dalla festa di nuovo è tutto, grazie Camilo Trada. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti